Su un punto i sindacati sono d'accordo. Quelli considerati da Cateno De Luca buoni e quelli considerati cattivi, occorre recuperare con maggiore efficacia i crediti vantati dal Comune di Messina nei confronti dei contribuenti. Un messinese su due non paga i tributi, l'evasione supera il 52%, dal 2012 al 2017 il Comune ha accumulato un credito che supera i 115 milioni e mezzo di euro, una cifra spaventosa che servirebbe a risanare le casse di Palazzo Zanca e quanto hanno denunciato, carte alla mano, i sindacati e in particolare il segretario della CISAL Santino Paladino, segretario di una delle organizzazioni che continua a trattare sul Salva Messina con Cateno De Luca. Paladino ha detto che basterebbe recuperare questi soldi per salvare dal tracollo Palazzo Zanca e rinunciare ai tagli. Strategia sposata anche da Will e da CGL, solo che Tripodo e Mastroeni, segretari di Will e CGL, non intendono arretrare di un solo passo sul Salva Messina, in una città dove il tasso di disoccupazione supera il 30%, non si deve perdere un solo posto di lavoro. E allora a mercoledì 31 ottobre la città è chiamata a protestare nella manifestazione organizzata da CGL Will contro il piano lacrime e sangue. Per Gino Sturniolo, ex consigliere comunale, l'unica via per uscire dal regime di austerity esasperato è dichiarare subito il dissesto. La città, ha detto Sturniolo, è già nei fatti al dissesto. Una città che per motivi economici non riesce a garantire i servizi essenziali, ha spiegato Sturniolo, dai trasporti ai servizi sociali agli esili nido, è fallita.